In questo video I ragazzi stanno festeggiando Ma non sanno che è arrivato il nuovo maestro Buongiorno, prima e ultimo Comandi, signora Presidente Silenzio Buongiorno, signor Buongiorno, soldati Buongiorno, ultimo Ok, iniziamo la marcia Siamo tutti dei soldati Sempre a scuola, preparati La mia classe Quanto mi manca Allora, mi fa un pezzo di un tiro di banana Prego, fai lì Ah No, mi fa una palla Sapete Funghetti perché stiamo facendo tutto questo casino? Perché il maestro San Giovanni Se n'è andato da scuola E qui non mi ha visto Ha perso il registro Non lo trovo più Lo doveva custodire lei Ce l'avevo a casa Ma adesso non lo trovo più Non so dove Questa cosa è gravissima Adesso o la licenzio io O vado a dare immediatamente alle dimissioni Do le dimissioni Quindi il maestro non c'è Quindi possiamo fare tutto quello che ci fanno a scuola nostra Cominciamo bene qua Ma che è sta cacciata No, 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 basta, 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 vedevo dire una cosa importante Che cosa, andiamo tutti a casa? Che non c'è il maestro, vero? Dai andiamo a casa Va bene, d'accordo, il professore oggi non c'è Però vi devo presentare una nuova compagna di classe Perciò state buoni, state tranquilli Che adesso la faccio entrare Dai, ora stai chissero Non lo faccio Sì, tornate una ragazza E vai Un'altra ragazza Ehi Ragazzi, lei è Jasmine La vostra nuova compagna di classe Mi raccomando Accoglietela bene Fate amicizia Scusa, ma una domanda Ma come mai sei in classe nostra? San Giovanni Anche te ti ha bocciato E ti vuole mettere un'altra classe? Hai indovinato? Sì, anche a me San Giovanni mi ha bocciato Ma ha fatto cambiare classe San Giovanni, sempre lui Allora siete i nostri Allora siete i nostri Funghetti, per continuare a vedere il video Iscrivetevi al canale E guardate il video fino alla fine Perché ne succederanno di belle oggi Fate chiasso, fate chiasso I ragazzi stanno festeggiando Ma non sanno che è arrivato il nuovo maestro Con San Giovanni potevano fare quello che volevano Ma con il nuovo maestro Questo non potrà più accadere Buongiorno, prima e ultimo Comandi, signora Presidente Benvenuto, prima e ultimo Agli ordini Lei è stato assunto per rimettere ordine in questa scuola Cosa che il professor San Giovanni non ha saputo fare Ecco qui E ora andiamo la presento ai ragazzi Signor sì, signora Presidente Per me sarà una missione Andiamo Uno, due, uno, due Nando che facciamo fino all'ora di città? Giochiamo Andiamo al Mc Donald Ragazzi oggi ci divertiremo da morire Facciamo dei bei tic e tocche Va bene? Tic e tocche 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 Guarda ci pensi lei Ci pensi lei Tic e tocche Tic e tocche Tic e tocche Adesso non giocate più, ve lo presento. Primo o ultimo? Vengo da una scuola di soldati. In questa classe pretendo ordine e disciplina. Questo è il sabato del brutto, eh? Mamma mia. E quando entri in classe, tutti sono attenti. Adesso facciamo una prova e vediamo se avete capito. Questo era quello che ci voleva per questi animaletti. Adesso esco e voglio vedere se avete capito, se avete recepito. Buongiorno signor. Scusi, ma insomma sia calmo, sono ragazzi infinati, no? Mi sembra un po' esagerata questa cosa, questa autorità mia. Scusi, ma ne chi è? Io? Io sono il bidello. E chi le ha dato il permesso di parlare? Lo sono preso. E allora se lei è un bidello? Stia, sono attenti. Sì, vabbè. Vabbè, vabbè, così. Più rigido. Io l'ho fatto il militare. Vi lascio con il maestro primo ultimo. Ci pensi lei, professore? Sarà fatto. A proposito di ordine, questa classe è un porcile. Avete 30 secondi per rimettere in ordine. Uno, due. Veloci. Veloci. Ordine. Certo che si è capitata proprio in un giorno sbagliato. Che sfortuna. Iniziamo a dare le regole durante la mia lezione. Allora, ci dica le regole. E che pensi che le devo scrivere io? Tu che parli? Vieni qui a scriverle. Ecco il pennarello. Dovevi stare zitta. E gliel'avevo detto io. Non ho capito. Non c'è niente da dire. Ecco il pennarello. Grazie. Tu, piccola soldata, come ti chiami? Ma io non sono un soldato. Vabbè, faccio una parte. Io mi chiamo Eli. Voi per me siete tutti soldati. Tra poco, in questo video. Siamo tutti dei soldati. Sempre a scuola preparati. Domani mattina alle 5. Fuori dalla scuola. Si può sapere? Mi spiegate perché siamo qui alle 5? Buongiorno soldati. Buongiorno ultimo. Ma lei chi è? Chi so io? Iniziamo con la prima regola. Durante le mie ore non si va al bagno. No. Cacca. Ho detto no bagno. Perché è scritto no cacca, no pipì? Perché al bagno si fa quello. Scusi eh. Scusi, ma è solo l'ultimo? Soldato giù in fondo, dimmi. Io veramente devo andare in bagno. Mi sto sentendo male. Ti mando in bagno. Ma non per fare i bisogni. Per pulirlo. Ma come pulirlo prof? Dai, dobbiamo andare in bagno. Certo, dai. Veniamoci incontro. Io pulisco, però poi vado in bagno. Scordatelo, ti mando in bagno a pulirlo. E fai presto. 10 minuti, un quarto d'ora sto rilassando. Un minuto. Rilassando. Non si va nella foresta. Nella foresta? Ma quale foresta? Qua siamo a scuola. Domani mattina svegli alle 5. Si va a correre. Alle 5 a correre. Ma le 5 sono il mondo dei sogni. Ma poi alle 5 è ancora buio. Hai paura del buio? E adesso la regola più importante. Non si accarezzano i leoni. Chiaro? I leoni. Perché ci porta lo zoo che non dobbiamo accarezzare i leoni? Andiamo allo zoo maestro. Non mi chiamate maestro. Io sono il vostro generale. E domani mattina svegli alle 5. Allora lei è il generale ultimo. Sono il generale primo ultimo. Primo di nome e ultimo di cognome. Allora lei è il parente di ultimo e il cantante. No vabbè non ci credo. Dopo San Giovanni ora c'è anche ultimo il cantante. Ah raga avete detto ultimo? Pronti? Vai. Fa male di per adesso. Ma non so più capo senso. Siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordine spazio. Basta non si canta. Donate le mie ore. Ma mica c'è scritto gli scusi. Ce lo aggiungiamo. Ma non c'entra. Tra poco in questo video. Ogni mattina faremo così. Ci ritroveremo alle 5 e marceremo. Siamo tutti dei soldati. Sempre a scuola preparati. Siamo tutti dei bei. Con i miei. La mia classe. Quanto mi manca. Quanto vorrei tornare. Si studia. e si fatica. Continuate a scrivere il dettato. Non ce lo faccio più a scrivere un'ora che stiamo scrivendo. Funghetti questo è il maestro peggiore che esista. Qual è la vostra materia che odiate di più? Scrivetela nei commenti. Silenzio. Scrivetela nei commenti. Nando. La pacchia è finita in questa scuola. Il maestro ultimo era proprio quello che ci voleva. Signora preside. Mi sembra un po' esagerato. Sono contento per lei che la scuola ha ripreso bene. Però mi pare un po' esagerato. Questo sistema militaresco così. Altre ragazzi di 10 anni. Per me è sbagliato. Però lei è la preside. Nando. Lei la deve smettere di difendere i ragazzi. È solo un vitello. Ora andiamo a verificare. Parla parla parla. Andiamo a verificare. Per finire prego. Continuate a scrivere. In marcia per la vita. Vede Nando. È tornato l'ordine e il rigore in questa classe. Complimenti. Però mi sembra sempre che sta vendendo. Eh Nando, Nando sembra a commentare. Ecco qua. Basta. Con le prove. Silenzio Nando. Silenzio. Silenzio. Vabbè speriamo. Perfetto così. Contrimenti professor ultimo. Vedo che questi ragazzi veramente seguono quello che lei mi sta dicendo. Preside. Sto svolgendo la mia missione nel miglior modo possibile. Perfetto. Veramente la ringrazio perché era quello che ci voleva in questa classe. Veramente grazie. Ragazzi, voi tutto a posto? Sì. Dai. Va bene. Salsa sì. Non c'è tanto. Allora professore, qual è il programma per questa fantastica classe? Allora, come prima cosa ci siamo dati delle regole. Bene. Le regole, proprio quelle che mancavano. Vede Nando? Sì. E ora stiamo lavorando sull'inno della classe. Ah, addirittura l'inno della classe. Ma capito Nando? Bene, bene. L'inno della classe. Quindi ora canteranno l'inno della classe? Buonavotte. E ora si mettono pure a cantare. Andiamo bene. Attenuti. Potete cantare l'inno della classe. Siamo tutti dei soldati, sempre a scuola preparati. Qui si studia e si lavora, dalla prima all'ultima ora. Signora Presidente, riposo. Professore, volevo farle i miei complimenti. Finalmente vedo una classe con un regime veramente pazzesco. Allora ragazzi, la campanella ci vediamo domani mattina alle 8. Ok. Come ci siamo già detti prima, domani mattina alle 5, fuori dalla scuola. Alle 5? Ma ne li porta questi a lavorare? Ma ne li porta? Ma professore, domani mattina alle 5 è ancora buio. Ma ha paura per caso? No, 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 no. Perfetto, va benissimo. Ragazzi, domani mattina alle 5, fuori dalla scuola. Io ho paura. Andiamo a casa, ho troppo sonno, ti prego. No, 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 io una nota e essere bocciata non la voglio. Eh, no, te, ma che ti frega. Oh, però camminiamo che io ho paura? Ma dove stiamo? Ma dove ci ha fatto venire questo? Nicole! Si può sapere? Mi spiegate perché siamo qui alle 5? È arrivato un nuovo maestro, un maestro primo, ultimo. Sai che vi dico? Sono le 5, io vado a dormire. Fa pure il progetto. No, ci devi fare. È un problema a posto. Se voi non facevate licenziare San Giovanni, probabilmente adesso non vi sareste ritrovati in queste condizioni, a stare alle 5 di mattina qui con un nuovo maestro. Poi, parliamoci chiaro, questo maestro ancora non è arrivato. Secondo me, se voi venite a casa, zitti, zitti, non se ne accorge nessuno. Anzi, andiamo, ce ne è tanto il maestro qui, non c'è, zitti. Oh, secondo me vi ha fatto uno scherzo. Subito. È certo. Attenti. È lui, è lui. Questo? Sì, è il padre mio. È il matto. Buongiorno, soldati. Buongiorno, ultimo. Ma lei chi è? Chi so io? Che cosa? È il mio padre. Sono il papà di Hillary. Salve, salve. Piacere. Vabbè, io vado, vedo che il nuovo maestro è veramente allegro, è simpaticissimo e complimenti. La mano, niente, la mano non me la dà, rimane così. Vabbè, ragazzi, arrivederci, mi raccomando. Ultimo, cantata, vabbè, quello chi è? Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Nando, Nando, che fai qua alle 5 di mattina pure tu? Ma che stai fai qua a voi? Ricordate, quello è matto. Dato a detto a Nando, quello è matto. È problema vostro, eh, Nando. Buona fortuna. Buona notte. Ma be', ma Nando, io vado a casa, metti a dormire, pensaci tu, ok? Va bene, ok. Ciao, Nando, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ogni mattina faremo così. Ci ritroveremo alle 5 e marceremo. Un vero soldato non ha mai freddo. Ma adesso, una domanda, ma pure il sabato è la domenica, ci dobbiamo svegliare presto, no? No, la domenica non ci alzeremo alle 5. Ah, vabbè, anche noi, anche noi. La domenica alle 4. Questo, ragazzi, non può rivolgere. Non può già manare all'ospedale, oh? No, no, lo rivolgerà, tranquilli, lo fai a morire, rivolgerà. Siete pronti? Ok, iniziamo la marcia. Marsch. Siamo tutti dei soldati, sempre a scuola preparati. Nando, anche lei. Ma che te stai mettere l'ultimo? Io sono l'ultimo di te, perciò io sono bene così, guarda. Siamo tutti dei soldati, sempre a scuola preparati. Siamo tutti dei bei, con i miei. Ilari, questo è un pazzo, dobbiamo trovare un modo per cacciarlo. Sì, poi alle 5 ci siamo svegliati. Alle 5? C'è tutta la neppia. Funghetti, era meglio San Giovanni. No, ragazzi, dobbiamo trovare un modo per far tornare San Giovanni. Funghetti, secondo voi che cosa possiamo fare per far tornare San Giovanni? Funghetti, iscrivetevi al canale per aiutarci a far tornare San Giovanni. Ho un'idea. Luna Facenti, tornate subito in riga. Siamo tutti dei soldati, sempre a scuola preparati. Aiutateci, iscrivetevi al canale. Siamo tutti dei soldati, sempre a scuola preparati. La mia classe, quanto mi manca, quanto vorrei tornare. Guarda come sono ridotto.